L'assalto delle guardie a casa di Nadia è stato sventato, ma qualcuno li sta aspettando. E fu così che stranamente il paladino diventò un barbaro che in 3.000... Non ti preoccupi dopo. Allora, appena dice di arrendervi... Io dico... No! Ma uno! Proprio i sette di bonus. Ma aspetta, ci penso... Vabbè, Adal la manda proprio a quel paese. Però non sortisce nessun effetto. E mo' ce penso io che... Caleb, quando lui gli dice di arrendersi, fa tipo... Mo' ce penso io, levati dai coglioni! Io gli dico, convincimi! Perché tu vuoi farlo? Dati un motivo perché non vuoi uccidervi. Dammelo 3-1! Cioè, appena Turion sente la cosa arrendersi e sottomettere, sottometti che il suo istinto da paladino si attiva, il suo senso da paladino, arrendersi nel mio vocabolario. Prende il martello e non lo tiene così. Ti capisci, con le palle che ti ho fanno lascia di fuoco con strider. Che cazzo è il tuo! Vabbè, scusa! Arrendersi nel mio vocabolario. Come lo risolviamo adesso? Ti faccio un raro, partita tetra e mi so a cazzottoli. Tanto lo scopo è sempre quello. Come vedete, siamo tutti pronti alle armi. Vedete che anche i guardi dietro al sergente stanno sguenando le spade. Posso fare una cosa? Vai, dimmi. Sei il mio turno. Voglio fare il manovra di combattimento per prenderle e buttarle a terra. Grappo. Fallo, fallo. Tipo cattivissimo, non è attacchi di opportunità. Vai, vai, manovra di combattimento. Se mi viene bene, ti giuro. Master, io mi posso mettere in azione preparata che se qualcosa va male... Se qualcosa va male? Punto. Ti faccio la bullet rush per allontanarlo quanto meno da... Cioè, ti faccio... La cosa lì... Il blast con l'infusione per spingerlo via e allontanarlo quanto meno... Evito di percussare. Ok, allora... Questa è la scena. Turion salta sul tavolo e prende per il colletto e tira il sergente. Però viene rispinta la presa... E poi si trova la pietrata tua per lanciarlo dall'altra parte della taverna. Distrugge un tavolo e va dall'altra parte. Aspetta. Da pushing mi prendo il mio punto di... i miei punti di turn. E... ecco... 90. Il burnamento che se ne fa c'è la scena del team rocket. Andiamo a scena della velocità della luce. Mi devo fare... Esatto. Plim! Ok. Allora... Mi devo fare prima l'Heart Blast e poi la CMB con la costituzione. Ok. Sicuro che può dare Born e come scusa. Sì, sì, cose da... Da cineta. Ah, ok. All'attacco. Più due al danno perché la città do Barn. Quindi... Lo scaravente lo scucozzi? Aspetta, per vedere se lo scaravente devo fare pure la... Intanto comunque gli hai fatto... Intanto gli hai fatto male. Poi... Forse... Ma forse... Intanto l'hai tipo spaffolato. Come porti i capelli per il giro? Intanto... Intanto ha avuto un pasto al sapore di ghiaia. Mmh, flint! Anche... Anche lui comunque... Croccante! Anche lui riceve comunque le pietre però non si sposta. E Ada, segue il momento. Baraglia il tavolo dal cazzo sotto però rimane là. No! Regà, questo tergente però bisogna dargli... C'ha... C'ha il perchi da movibile. Il perchi da movibile. Non sono le diverse manovre di combattimento. No, aspetta, aspetta. Contemporaneamente è un cazzo. Cioè la cosa è così divertente è che ce l'ho io il perchi in inmovibile. Ah, aspetta, è più otto. Quello in teoria ce l'ho anch'io perché ce l'ho dei nani. Infatti, di base ce l'abbiamo tutti i nani. Niente, io qui ed ora faccio il tergente del... Delirodithel come nano onorato. Ahahahah! Esistere a tre manovre nell'arco di... Un... Un round di combattimento ne... Lo rende degno. Madonna, veramente. Dai. Ok, allora. Tirate iniziativa. Eh, vabbè. Giustamente tre valori di combattimento non l'abbiamo fatto un cazzo Eh vabbè Abbiamo soltanto tolto di me tu un tavolo e ci siamo messi davanti a Nadia Ok sono tanti c'hanno 11 io c'ho 6 Aspetta devo fare il sergente anche Il sergente c'ha 20 tra poco Come 0 E un attimo fammelo tirare no? Se non mi mettevo a ridere 0 è impossibile almeno 1 deve averlo capito? Ok per esempio va bene Ok Per questo avrà scritto il tuo Si l'ho scritto il mio mio e sei E' come la tua prima manovra di combattimento Non ha aggiunto i turni Allora Caleb si Poi Torin no Quindi lo aggiungo Eh ma non mi fa selezionare il token Quanto hai fatto tu? 14 Che fai agisci? Primo o dopo Ada? Scegli tu Primo o dopo? Ada? Si Dopo Vabbè se vuoi mi metto a guardare le destrezze Così non faccio più sta domanda No penso tu abbia più destrezza di me Perché vedo su come modificatore iniziativa i più 11 Quelli sono generali Va a prendere tra iniziativa e tutto Quanto i talenti, i tratti e la destrezza più alta Che manca? La tua iniziativa è di 6 Sempre dopo il sergente però Sempre l'ultimo a colpire Ok allora Le guardie si mettono in funzione di difesa a proteggere Volan Allora Calib cosa fai? Solito Spreccio Ovvio Solito arcane strike Ok a chi al sergente direttamente oppure alle guardie Sì al sergente Ok Non lo voglio uccidere però Eh o è la madonna Ok Allora è critico Bello Conta che c'è pure un più uno ai dati Bene ok Ok a posto Però è danno letale o non letale? No non letale Ah ok Ok 25 danni non letali Seems legit Dopo i 23 di prima Ok E i 25 adesso I cazzotti sono cazzotti ricordiamo Allora Ad Però le frecce sono difficili da fermare Allora Ad deve fare una prova di acrobazia prima Quindi Quindi 20 più 5 Ah dio fa caldo Sto morendo le coste risate Ok Supera Madonna Supera Vai passo con un salto le guardie Vai passo Ci stiamo accanendo tutti Si e faccio la raffica dell'attacca a briga Ok la prima ha colpito Seconda no Forse si Allora Uno due Poi manca quello con Il mando sinistro Già fatto tutto Quindi colpisce 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 Tre colpiscono e una no Ok Quindi sono Allora 17 Tutti non letali Sono questi eh 17 21 E 21 E amici Quattro Quattro cazzotti Sono pur sempre Eh Adesso chi tocca Adesso chi tocca A Turion Torin Cosa fai Torin Ho sbagliato Si aspetta Quello Considera che tu adesso Vedi soltanto Le quattro guardie Perché dall'altra parte Vedi Senti soltanto Il suono dei cazzotti Di Ada Questa è la situazione Che sbattono sulla Si che colpiscono L'elmo Vabbè Visto che Visto che Altrimenti Ada si trova circondata Dalle quattro guardie Prova a tirare A tirare Molti tassate Contro Una della La prima guardia Cioè Una delle quattro Ok Io uso danni non letali Tu usi danni letali Sulle guardie Sì sì Io tantissimo Mi chiedo Solo perché Mi ho dovuto arrendermi Tipo le palle girate Facciamo come il necromante Prima li interroghiamo E poi Devo tirare qualcosa Per l'esecuzione Ok Colpisci Al momento Ho rincazzato di mio Che hanno letale o non letale Ormai te lo chiedo Perché non si sa mai Letale Tori Ma Ci hanno minacciato Quindi Sì Per il momento Ok Tipo Per il momento Ok Allora La prima guardia Ti sfondi lo scudo E una Gli si pianta in faccia Di pietra E cade a terra E la prima è morta Gli altri 3 guardano la situazione E rimangono comunque in difesa Senti Per il caso di non sentire I cazzotti di Ada Che stanno andando Verso il loro capo Se una persona Non si calcola di striscio Un loro compagno morto Gli ti fa capire qualcosa Se non se ne frega niente Di una persona morta Il loro turno Che si girano E cercano di attaccare Ada Quanto hanno Se soltanto uno Mi colpisce Io rido Tu muoio? Io rido Non muoio Ah ok Ah Nessuna mi colpisce Mi hanno fatto 7 Tutte e 3 C'è 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 Quanto hai 10 Io C'ho 18 o 20 19 C'ho C'ho battuto Finalmente Che è la gara Sì Ma come si Perché lui inizialmente Mi riusciva a battere Perché ammichia Era tipo full dex Quello Io c'ho un'arrivatura spessa Contro il wall maria E non è che è durato tantissimo Cioè Infatti E' come nella storia originale In effetti Ok Allora Quindi non colpiscono Ada Il sergente Cerca di Togliersi Ada D'addosso Come? Buona fortuna What is my favorite popcorn? Ti volete di barco Verso le mani Che cerca di stralicare Quanto ho questo qua Di bonus Sulle manovra Più 5 Forse ce la fa Dai Ce la fa 9-5-26 Qualcuno ha il click per auto Uuuuh Di 2 soltanto lo sorpassa Allora Lui si toglie da dosso Ada E scappa Come scappa? E ordine Come scappa? Appunto Lui Bypass e guarda Vi trovo per niente Voi tre Di fronte Avete l'attacco di opportunità Considerate che per niente C'è già la faccia piena di lividi Ah Abbiamo l'attacco di opportunità Io allora vado di Apposto io pure Attacco Attacco non letale Prima Kaleb Ok Mi raccordo attacco non letale Si fa sentire dopo il dolore Gli stronzi li facciamo poi Lui no Più tardi Vabbè Tanto non li stai Prima parliamo Poi colpiamo Poi l'uccido Poi li parliamo Ok Anche tu sempre La freccia sul piede Così almeno lo fermi Non scappa Sì 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 Non lo voglio uccidere Ok Stump Stump Al grido di Dovai Dovai È bloccato Dovai Ti ho sentito Do per baccolino Una freccia ma Trevi sul piede Ok Torin Tu invece Mi passa di fianco Io per lato Vado di Martellotto Mi immagino Ti vuoi la scena I can do it Ma lei Is broken Anche tu colpisci Non lo prendo No Non colpisci Ok Turion Ok Danno non letale Sperando Questo lo dovevo colpire Lo colpisci Ok Danno non letale Danno non letale Ok Condundente Ricordiamo Ok In fronte Quindi Vento ormai Ok Adesso è il tuo turno Turion Cosa fai? Bella domanda Puoi riattaccarlo Adesso è il tuo turno Non è che dici Esiste tipo Nella stanza Nella stanza Esiste un angoletto stretto Un angolo Di 90 gradi Puoi bloccarlo Se lo tiri via C'ha il piede Puntato a terra Quindi gli strappi Di polpire Infatti Al posto Allora va benissimo Per me va benissimo Di combattimento Lo tiro E lo sdradico pure Che ci siamo Che cazziveria Sanguinamento Sti cazzi Tanto deve morire Prima o forza Lo guarisco Per farlo soffrire di più Ok Quindi lo strappi Vai Tiralo di nuovo Per lanciarlo Di nuovo Per ritirare Per manovra di combattimento Ah ok Ah vabbè Uno con piccolo Il terreno Lo faccio diventare Una pianta Non è piacere No No vabbè Fa culo Mi da un cazzotto Per spingerlo Ma rimane praticamente là Non ha la gamba Appunto Ok Ritocca a Caleb Allora Sta pariente Barcollando Non sa nemmeno lui Che cacchio sta succedendo Vediamo se ne specchio D'addi Anche l'altro piede Ma povera Dai Due gambe Li tolgo Dopo Perché la vogliamo Di sedere a hotel No No Non colpisci La freccia colpisce Il pavimento Ma non lui Tipo lui Dice Allora Nero ma l'altro piede Ok Gli è andata bene Ada pure vede Che siccome Le altre due Pure loro Si girano Per andarsene Ada fa Una raffica D'attacca a briga Su tutte e due C'è l'accordo Porta su tutte e due I mille punti di occhio E vabbè I critici Che Sono due Due colpi per mano Diciamo che No no È tutto E sì I primi due Vanno su una guardia E gli altri due Vanno sull'altra Perché Attacco le opportunità Su tutte e due Io non te lo vorrei dire Ma abbiamo già un estetista Dall'altra parte della zona Non c'è bisogno Che ci pensi Te Sì La ricostruzione facciale Gli è fatto Considera che L'attacco con la mano destra C'ha comunque Meno 10 al tiro Perché meno 10 al tiro Perché meno 10 al tiro Perché è un attacco secondario Quindi Tu sei basato in Dex Immagina me con meno 30 Comunque Comunque Si gira E cadono Morti Sfracella la testa Questa E poi cadono a terra Con le mani di sangue Sonttisfatta E tira di demoralizzare Contro Demoralizzare contro No Contro l'ultimo Poi ti vengo a prendere Farai la stessa fine Eh sì Adesso esce giusto Hai capito Ah ecco Tipo non è come il mio Ben tune L'intimidio No Demoralizzare questo E vabbè Mi sembra là Siamo con me Vabbè Ehm Vedete ormai Vedi che ti sta mezzo morto Allora Si ferma e ti guarda Quello ormai Sta barcollando Quindi tocca a Thorin E io Punto il Il sergente Con Il mio bello Il mio bel Earthblast Sto pensando Una futura Un futuro mondo Parallelo Con un antipaladino Ci sto pensando Solamente adesso Io Non so perché Avevo questo gusto Danno letale o non letale Ehm Ok Mentre quindi col tuo ultimo Earthblast Steso a terra E' andato E' andato E' andato KO Sì Ok Ok Tata 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 Io Ando cercare il terzo Ehm Andato Quattro Ok A chi tocca a me Ehm Teori E' finita Di sicuro I soldati I soldati I soldati I soldati Sono morti Quello ormai È KO Non è che ci rimane altro Ebbè giustamente Mi rimane a me il turno Con diplomazia Adesso per capire Che cazzo Allora anche lui Sta assordito Quindi facciamo la stessa cosa Delle altre guardie Quelle quattro morte a terra Le lasciamo stare Tanto sono morte Vabbè scusa Se faccio virtù Non si riprende Se tiro virtù Non si riprende Ehm No Tanto che Cioè La fine è finita Adesso la Il combattimento Ok Lo mandiamo all'ospedale Tipo senza la gamba Ti otterrete Ecco questo straccio E poi lo portiamo Dalla barbiera Dalla barbiera E poi il campo santo Frattaie Frattaie Flesche Barbiere Detista Chirurgo Anche Macellano Un attimo Faccio Un tiro Per vedere Se funziona La magra Sto provando L'individuazione del male Contro il paladino Ehm Vabbè Allora Dicevo Ehm